Wa-heh Kooji, ben ritrovati al vostro, andrei l'incramonto in questo nuovo Talking About. Probabilmente avrete già appreso della notizia che Yo-Kai Watch, il primo capitolo della serie, approderà su Nintendo Switch questo 10 ottobre. Dopo il grandissimo successo appunto di questa saga in Giappone, hanno deciso ovviamente di riproporre il primo capitolo per far sì che tutti quanti i nuovi giocatori, avendo giocato col quarto capitolo, possono insomma avere una prospettiva più ampia su quello che è successo in Yo-Kai Watch, quello che è successo all'alba dei tempi per dirla in questa maniera. Infatti, come vediamo qui anche dalle immagini, il gioco ovviamente avrà una grafica HD, verrà arricchito con ulteriori luoghi da esplorare, nuovi Yo-Kai, strano, e sarà compatibile con i giocattoli Yo-Kai Art, penso che sia Arc, non Art, appunto le chiavi Arc, e Yo-Seiken, che sarebbero appunto tipo le spade Yo-Seiken, vi metto un'immagine, non so se ce l'avete oppure se le avete viste magari su qualche sito internet, e appunto saranno compatibili con questa versione di gioco giapponese per il momento, non si sa nulla ancora per la versione europea, semmai dovesse arrivare. Intanto, Akiro Ino ha già confermato di voler portare il quarto capitolo in Europa e nel Nord America, così come in Sud America ovviamente. Un'ulteriore conferma arriva dal data mining del gioco appunto di Yo-Kai Watch 4, il quale contiene già il nome del team di localizzazione europeo e il nome del team di localizzazione americano, quindi insomma arriva sicuro. Quindi se c'è la possibilità dell'uscita del quarto capitolo, potremmo anche appunto mettere le mani sul remake di Yo-Kai Watch 1. Certo, per quanto mi riguarda sarebbe secondo me più normale, se vogliamo usare questo termine, farlo uscire in digitale e non come copia fisica, perché è appena uscito Yo-Kai Watch 4 in Giappone. A breve distanza fanno uscire Yo-Kai Watch 1, remake, il 10 ottobre, cosa che in Italia una vicinanza a questi titoli per una serie bistrattata come Yo-Kai Watch è successo solo con Blasters e poi con Yo-Kai Watch 3. Non credo che riproporranno questa esperienza, anche perché metti caso che vogliano portare sia il quarto sia il remake del primo capitolo in Europa. Come dovrebbero agire? Secondo me farebbero meglio a prendersi il tempo per tradurre appunto il quarto capitolo e intanto riproporre il primo, perché bene o male vuoi mettere nuovi Yo-Kai, vuoi mettere nuove funzioni, che tanto che sarebbero appunto gli Yo-Kai Arc e gli Yoseiken, che tanto noi in Italia non abbiamo, quindi già sarebbe un lavoro in meno da fare, però comunque sia si sa che quando un team di traduzione riceve tutto quanto il materiale, traduce ogni singola lettera, non le lascia nemmeno una, quindi tradurrebbero anche le funzioni per appunto gli Yo-Kai, che ne cose varie. Però appunto, tralasciando questo particolare, avremmo tutti quanti i dialoghi già belli e pronti, basta fare copia e incolla e il gioco è fatto, sarebbero giusto da tradurre altre due tre cosine e appunto gli ulteriori luoghi da esplorare e nuovi Yo-Kai. Ora, non ho idea di quali nuovi Yo-Kai si possa parlare, puoi mettere Yo-Kai di quarta generazione, diciamo così? Puoi mettere Yo-Kai che si trovano solo in Yo-Kai Watch 4, Shadow Side? Va benissimo, mettici qualcuno di quelli, quindi sarebbe da tradurre appunto anche qualche Yo-Kai nuovo della quarta serie. Ecco, però sarebbe un lavoro molto molto facile, dato che appunto copia e incolla il testo vecchio e ce l'è pronto, dato che è tradotto anche piuttosto bene. Ma non funziona così, purtroppo quando si riceve un nuovo gioco che sia remake, che copia ogni singolo testo di pari passo a quello vecchio, purtroppo lo fanno tradurre di nuovo, perché magari potrebbero tradurre meglio un termine, potrebbero cambiare con un sinonimo, e quindi si rifà da capo il lavoro. E dato che Yo-Kai Watch 4 uscirà, sempre, ripeto, a detta di Akihiro Hino in Europa, uscirà fra uno o due anni, quindi avremmo tutto il tempo di rigiocarci Yo-Kai Watch 1, su Nintendo Switch con grafica migliorata, e tutti quanti gli arricchimenti del caso, e poi passare appunto a Yo-Kai Watch 4, per un'esperienza nuova. Qui intanto vediamo l'artbox, che spero non sia questo, perché se è questo, level 5, assumi qualcun altro. Perché davvero è pessimo questo artwork, ragazzi, fa ridere, è fatto male. Cosa ha di diverso? Cosa ha di fatto male? Tutto! Tutto è fatto male. Posso capire che ci sia per Nintendo Switch, ci sia l'uno, per far capire appunto che si parla del primo capitolo, va benissimo. Lo sfondo arancione, con Whisper, e Whisper è quasi una mascotte secondaria di Yo-Kai Watch, dato che è secondaria, levalo. Puoi metterci un Jibanyan, ma metterci invece un Jibanyan enorme, il suo bel faccione, che per quanto carino sia, però perché potevate farlo meglio? Ma poi io non sono un genio del marketing, quindi non posso appunto dare la mia opinione, ovvio. Poi qui insomma abbiamo anche appunto la nuova grafica. Ecco, l'ho messa un po' zoomata, quindi un po' sgrana. Però insomma per farvi capire che la grafica HD c'è, e non è appunto fasulla, è sempre il motore del 3DS, con qualche piccolo accorgimento in più, qualche ombra in più, il cell shading leggermente migliorato, però ragazzi, è sempre la stessa mappa, gli stessi personaggi, li hanno scontornati, e hanno elevato la loro qualità in HD, piuttosto che in 240p, come era appunto nel 3DS. Quindi ora sono un 1080p, piuttosto che un 240p, ecco, questo sostanzialmente cambia. Sì, vediamo Nonna Edna, particolari molto più curati, qui che si vede la terra appunto, che si ricollega alla strada, quando siamo su campo fiorito. Insomma, piccoli accorgimenti, che però ti fanno dire, ah ok, ci hanno lavorato, insomma è fatto bene, si vede che stanno attenti ai particolari, però ragazzi, è sempre grafica 3DS elevata all'HD. Per cui vediamo anche appunto, Nathan che trova Whisper, Gibanyan contro il camion, quando diventiamo amici, insomma, insomma tutte cose già viste, però insomma fa piacere, vederle con una grafica migliorata. Ovviamente anche la mappa, come vedete appunto da questa foto, eccola qui appunto la mappa, come vedete, anche questa qui, ha il tasto R, se riesco a verco, ha il tasto R per ingrandirla, o per rimpicciolirla, come Yokai Watch 4. Inoltre vediamo che i comandi, sono comunque sia stati un po' rivisitati, premere in basso per la bici, premere in alto per appunto, cambiare impostazioni da radar a orologio, Y per la lente Yokai, e X come sempre è stato per il menu. Però ragazzi, io vi ripeto, è un gioco già visto e rivisto, abbiamo già giocato a Yokai Watch, chi ci ha giocato anche più di una volta? Insomma, ci ho fatto anche una Nuzlocke, che però le Nuzlocke vengono male su Yokai Watch, quindi era meglio evitare, ma comunque sia. Penso che lo porterò sul canale, ovviamente non avrà bisogno di traduzioni questo gioco, perché è Yokai Watch 1. Tutti quanti conoscono Yokai Watch 1, quindi, insomma, potrei fare a meno di tradurlo, e quindi riuscire a giocarlo, piuttosto che fare come il quarto, di abbandonarlo, perché era praticamente impossibile giocarlo con la traduzione. Ovviamente l'articolo conferma, quello che ho detto prima, che non c'è ancora nessuna uscita occidentale, per far riavvicinare al brand, dei fan di Vecchia Data che hanno acquistato Switch, Vecchia Data, uscito tre anni fa, poi neanche tanto, e far avvicinare anche nuova utenza, ad un gioco, insomma, che merita di essere almeno provato, almeno un capitolo merita di essere provato, che poi, che poi il primo appunto, come ho già detto, è per far vedere come è nata la serie, ai nuovi fan, e ai giocatori dell'ultimo momento, che hanno comprato il quarto, che comunque sia, è un titolo distaccato dagli altri, e quindi si può giocare tranquillamente, come primo Yo-Kai Watch. Magari alcuni potrebbero chiedersi, ma come fai a fare alcuni Energy Max, quando devi girare, che dovevi prendere il pennino, e girare sullo touchscreen del 3DS, ma non è un problema, hai l'analogico destro del Joy-Con, del Pro Controller, e si gira e si carica l'Energy Max, oppure, come faccio a caricare l'Energy Max, quando devo toccare sul touchscreen, che compaiono le bolle, e devo scoppiarle, ecco, secondo me il gioco rileverà, quando sei in modalità docked, e in modalità portatile, e quindi ti darà un mini gioco, da completare per l'Energy Max, che sarà possibile seguire, solo appunto, in determinate condizioni, non penso che, se tu stai in modalità docked, ovvero, quando Switch è collegato alla TV, e ti fa fare il giochino, di scoppiare appunto le bolle, perché sarebbe quasi impossibile, ci vorrebbe una grandissima coordinazione, oppure, peggio ancora, potrebbero dare una sola maniera, di risolvere l'Energy Max, ovvero, girando appunto l'analogico destro, secondo me sarebbe una perdita, da un certo punto di vista, ma dall'altra, per me, che gioco 99% in modalità docked, sarebbe, non sarebbe una grandissima perdita, non cambierebbe nulla, certo però è che, con l'arrivo di Switch Lite, che è solamente portatile, e ha uno schermo tattile, touchscreen, secondo me sarebbe d'obbligo, avere un utilizzo, per il touchscreen, con Yo-Kai Watch, però insomma, non si può mai sapere, cosa frulla per la testa, ai ragazzi di Level 5, che comunque sia, svolgono per i titoli che producono, un ottimo lavoro, quindi Yo-Kai Watch 1, per Nintendo Switch, ci vuole assolutamente, per me è promosso a pieni voti. Bene, per questo video è tutto, Kuge, fatemi sapere, cosa ne pensate, nei commenti, di Yo-Kai Watch 1, su Switch, se per voi, è un sì, oppure, se per voi, è un no, comunque sia, non commentate, no perché non ho Switch, ragazzi, capite bene, che comunque sia, è un titolo, che deve approdare, assolutamente, sulla console di nuova generazione, e sinceramente, vederci anche, ogni Nazo My Eleven, su Switch, è fattibile, anche soli, in modalità portatile, io non è che lo schifo, però, vedremo cosa vuole fare il level 5, ad ogni modo, Kuge, vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente, in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video, bye bye! a a a a a Grazie a tutti.